ciao ragazzi sono cilio immobile il carbo cannoniere del campionato italiano visto che si parla di gollo vorrei farvi una domanda qual è stato il gol più bello che è stato segnato da un calciatore italiano ai mondiali rispondete e mandate i vostri commenti usando l'hashtag vivo azzurro ciao ragazzi